Ciao a tutti, nuovo video riflessione. Quando succede una strage, come è successo di recente appunto, i social subito impazziscono, perché da quando ci sono i social sembra quasi che l'inconscio umano ci spinga alla necessità di far sapere a tutti che noi siamo informati e che noi in quanto nel web siamo tutti improvvisamente opinionisti e personaggi pubblici, abbiamo la necessità di far sapere di essere informati e di avere cuore riguardo a ciò che succede nel mondo, cosa che invece non è sempre richiesta perché a volte nel caso non si abbia niente di interessante da dire o di profondo da dire è il silenzio ad essere un grande strumento di compassione, empatia e rispetto per le vittime appunto di una strage, no? Però diciamo che questo video nasce come riflessione riguardo a certe reazioni che io trovo alquanto strane di fronte a delle grandi stragi appunto. E soprattutto riguardo all'ultima successa a Manchester al concerto di Ariana Grande. La prima reazione che mi ha lasciato perplesso è quella derivata dal fatto che il concerto fosse di Ariana Grande e che si puntasse il focus sul concerto in sé, sminuendolo in quanto Ariana Grande, idolo dei teenager, no? E a me sembra quasi assurdo fare un discorso del genere, dover chiarificare questa cosa, mi sembra molto grottesco. Però non è che le vittime del concerto di una cantante pop hanno un diverso peso rispetto alle vittime di un concerto ipotetico di una band indie, cioè la gravità è identica, potrebbe, poteva anche essere un concerto di Gigi D'Alessio, ma la gravità è identica, è l'atto grave sul quale bisogna mettere il focus e sul quale bisogna provare del dolore, non l'evento secondo me. Ma questo è appunto una parentesi. Il punto focale su cui voglio invece focalizzarmi appunto è la tendenza a reagire non tanto con le parole di cordoglio, con il messaggio profondo, ma al contrario l'estremo opposto, ovvero il, anzi più che estremo, ovvero la facile ironia barra il black humor, no? E cercherò di dare una mia opinione a riguardo, perché ho letto delle battutine sulla questione che mi hanno lasciato un po' così. Ad esempio, quella che gira di più e viene spacciata per una battuta molto divertente è, eh, questa volta Ariana Grande ha fatto il concerto col botto. Ah ah ah, dovrei ridere, dovrei ridere, è divertente? No. Eh, oppure, oppure ho visto anche dei tweet diretti a Ariana Grande in cui si faceva ironia sulla cosa, non pensando che, so che è strano per alcuni che un idolo pop famosissimo sia una cosa diversa, un alieno venuto dall'iperspazio, però anche Ariana Grande è un essere umano, so che è incredibile pensare a questa cosa, ma è così. Quindi, eh, noi non lo sappiamo, ma possiamo ben immaginare anche se è difficilissimo, se non impossibile, mettersi nei suoi panni ora, però credo che stia vivendo, cioè, sono sicuro che stia vivendo una situazione molto difficile in cui, anche se non ha colpe, tende ad incolparsi, perché comunque quello che è successo è successo durante un evento da lei tenuto. Quindi lo trovo irrispettoso e fuori luogo. Riguardo invece al black humor puro, nel senso, black humor tra molte virgolette, perché ora spiegherò che cosa si intende per il vero black humor. No, no, parliamo proprio delle frecciatine, del puro trolling, no? A volte poco fantasioso. È di quello che ne penso. Io mi sono fatto due domande, ho detto, ma com'è possibile che di fronte a una vera e propria tragedia la gente non perda mai occasione di ironizzare pur di sentirsi diversa, no? E mi sono fatto una domanda che non trovava risposte e poi, pian piano, riflettendoci, mi sono sentito in dovere di scomodare Kant e il concetto del sublime. Semplificandolo, infatti Kant, per quello che dirò, per come lo dirò, si rivolterà nella tomba, però diciamo che ci viene in aiuto più o meno il concetto, perché il concetto, secondo me, è un po' lo stesso del tizio che sulla collina, felice, nella sua villetta, guarda l'orizzonte e vede un bellissimo vulcano che erutta e distrugge una città. In quel momento il tizio sulla collina pensa, oh che bello il vulcano, per fortuna che non sono là sotto, così mi posso godere lo spettacolo, no? Perché comunque l'essere umano ha l'istinto di sopravvivenza, ma ama un po' giocare con il proprio istinto di sopravvivenza, però con la consapevolezza che il suo istinto di sopravvivenza non viene intaccato, quindi rimanere lì prima della soglia, no? Però allo stesso tempo sedurre la morte, ed è anche il motivo per cui a molti piacciono i film horror, no? Proprio per questo, perché mettono e sviluppano delle reazioni, delle emozioni che si provano in stato di pericolo, ma sono emozioni che provi sulla poltrona di una sala del cinema, quindi al sicuro oppure in casa propria, banalmente, no? E quindi quello mi è venuto in mente, perché? Perché mi sembra come se questi commenti fuori luogo cercassero di sminuire la vicenda e portando gli utenti a un piano superiore in modo che, ridicolizzando la morte, si ne possano allontanare, senza affrontarla, in verità. Oppure, appunto, per una tendenza alternativa all'empatia, all'emozione, all'emozione a volte esagerata, ma è emozione che è coerente con quello che succede, no? Però quando viene fatto notare che questi commenti sono fuori luogo per quanto, appunto, sia un tentativo, per certi aspetti, di allontanarsi dalla tragedia e di cercare di sdrammatizzare la tragedia, la risposta che esce fuori è sempre quella, è black humor. O comunque si intende sempre, ma non si può scherzare, cioè, si può scherzare anche su questo per sdrammatizzare, è black humor. Però non è black humor. Perché? Perché è semplicemente una provocazione fino a se stessa. È un fastidio fino a se stesso, perché la reazione che provocano questi messaggi è o il nulla, nel caso in cui si affrontino a livello analitico, non lasciano neanche così tanto sdegno, ti viene da dire che è puraccio. Quello ti porta a dire, no? E quindi è fastidio fino a se stesso. In altri casi, appunto, il nulla cosmico. Invece il black humor non ha quella funzione. Il black humor può toccare, secondo me, che piaccia o non piaccia, perché a molti può non piacere giustamente. Perché il black humor deve essere scomodo. E proprio per questo non si concede tabù. Ed è giusto così. Può trattare qualsiasi tema, secondo me, il black humor. Anche perché io sono contro la censura in ogni tipo. Perché non è un testo ad essere dannoso, ma è la ricezione e l'interpretazione e l'analisi di quel testo da parte del soggetto che lo legge. Il black humor ha come scopo, come mezzo l'offesa, o comunque il sollevare con piglio ironico, a volte crudele, delle tematiche scomode per scatenare una riflessione. E quindi, in realtà, attraverso l'offesa che indigna, si raggiunge un livello, quindi si alza il livello, cioè l'abbassamento e innalzamento del livello umano, dell'istinto animale e dell'anima umana, quindi sempre sublime, per un certo senso, l'alzamento e l'abbassamento, per arrivare appunto a una riflessione, a un dibattito, e cercare di porre invece l'attenzione su quel problema, quindi raggiungere un obiettivo opposto a quello che la battuta inizialmente sembra suggerire, scatenando lo sdegno inizialmente. Per fare un esempio di quello che io ritengo un buon esempio appunto di black humor, io prendo in considerazione South Park, perché South Park è una serie a cartone animati che a me piace molto, e che a volte è scritta talmente bene che certi passaggi di black humor me li ricordo a distanza di anni, magari non mi ricordo l'episodio intero, la storia, la storia, ma mi ricordo quei momenti, perché mi hanno scatenato delle riflessioni. Uno dei momenti che mi ricordo maggiormente di black humor riuscito è una puntata che sembrava molto offensiva, come al solito scomoda, come avviene per molti episodi di South Park, che ruotava attorno ai giapponesi che ammazzano le balene, con crudeltà, no? Balene e delfini ammazzati, no? E quindi tutta la puntata si svolgeva nel cercare di capire perché i giapponesi ce l'avessero a morte con le balene. E saltava fuori nell'episodio che c'è questa fotografia, ovviamente che non esiste, di una balena, di un delfino che pilotano le enolagei, no? E che quindi hanno causato il disastro, il disastro della seconda guerra mondiale, della bomba nucleare, no? E quindi già lì scommodita a manetta. Però l'episodio si concludeva con gli americani che photoshoppavano la foto e facevano salire a bordo delle enolagei, attraverso un fotoritocco, una gallina e una mucca. In quel modo i giapponesi potevano sfogare la loro rabbia su galline e mucche. E il commento finale della puntata erano gli americani che, vedendo i giapponesi che massacravano questi animali, quindi galline e mucche, commentavano dicendo ora sì che possiamo considerarli persone normali. Ed è terribile perché mi ha scioccato quella puntata, me la ricordo tuttora, ma allo stesso tempo il tentativo di arrivare a una riflessione di tipo alto, che può piacere o non piacere, ma c'è il punto d'arrivo che porta a riflettere e a dibattere, c'è stato appunto, avviene. E quindi è black humor riuscito, il black humor intelligente, che non guarda in faccia nessuno, ma che allo stesso tempo mantiene una linea che quando si conclude la battuta, in questo caso una puntata intera, porta a una riflessione di tipo alto. Quello è il black humor, non la provocazione scritta da un tredicenne su un attentato, cioè è solo cattivo gusto. Quindi come si può agire? Non si dovrebbe agire con la censura perché appunto è il testo, non è il testo, è la recezione ad essere dannosa, anche perché molto spesso la reazione a questi commenti è un sonoro facepalm e quindi è dovere analitico di ognuno doverci passare sopra, anche perché molto spesso commenti del genere vogliono attirare l'attenzione. Però mi interessava proprio riflettere su questo, sull'idea di parlare di argomenti anche in tono controverso, ma con intelligenza. E quindi voglio sapere da voi cosa ne pensate. Io credo che in questi casi ovviamente il miglior modo di agire è di dimostrare sempre il proprio buonsenso, la propria umanità, empatia e rispetto. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Un bacione, ciao ciao!